Primo giorno di scuola bis per i ragazzi degli istituti superiori della nostra regione. Appenne tanti gli studenti che sono tornati a frequentare in presenza le lezioni dopo più di un mese in DAD, didattica a distanza che non ha dato i frutti sperati, soprattutto per gli alunni residenti nei centri più piccoli dell'area vestina, a cui ha causato non pochi problemi. Un giorno che si è dimostrato abbastanza positivo, i ragazzi sono stati contenti, anche se con qualche preoccupazione, ma di rivedere i propri compagni, di ritornare nelle proprie aule, anche se con una riduzione al 50%. Abbiamo cercato di tutelare tutti i soggetti deboli, chiamiamoli così, e quindi tutti coloro che ci avevano presentato anche nei mesi precedenti delle necessità nel voler frequentare a tutti i costi, quindi mi riferisco alla scarsa connessione a casa di internet oppure a una mancanza di strumentazioni. Abbiamo rispettato tutti questi bisogni e i ragazzi sono tornati contenti. Al rientro le classi sono state divise a metà, dando così la possibilità a tutti i corsi di studio di poter andare avanti con le lezioni e allo stesso modo da poter garantire il distanziamento e la sicurezza di alunni e docenti. Soddisfazione per la dirigente dell'Istituto Tecnico Superiore Guglielmo Marconi di Penne, ancora alle prese con i problemi ormai noti della sede, ancora inagibile in pieno centro storico, ma che comunque spera di poter riabbracciare tutti gli iscritti il prima possibile. Sì, devo dire che è veramente un peccato. Abbiamo delle aule bellissime, tecnologiche, oramai attrezzate, dei banchi nuovi che il Ministero ci ha fornito e purtroppo quello che mancano sono i ragazzi. Speriamo che presto possano tornare al 100% in presenza per poter usufruire di tutto questo. La scuola, che si è data molto da fare in questi mesi di chiusura, ha presentato prima delle festività natalizie un virtual tour per far conoscere a distanza la propria offerta formativa. Sì, abbiamo trovato delle strategie per poter entrare nelle case dei nostri studenti a tutto tondo e comunque siamo online con il virtual tour e con tutti gli altri spot che stiamo pubblicizzando con i social.